Zizou, Zidane. Mi sento come il piccolo fratello, come il bambino della squadra. Mi piace. La mia mamma e anche io. La prima volta era quando ero infortunato, per la prima volta. La seconda era l'anno scorso quando Ferguson mi ha messo con la squadra di Manchester. Di essere cattivo. Cattivo, sempre cattivo. Cattivo. Sempre ho giocato con il numero 6, anche con la nazionale ero il numero 6. Il numero 6 è il numero 42 o il numero 24 perché fa 6. David Beckham. Zidane. Platini. Ebra. Viera. Dura. Maradona. Di loro. PPriue. Piarpa. Crecati. Il numero 123 il numero 3.